12 partite per fare i punti necessari a tornare a giocare in Europa. Un obiettivo ampiamente alla portata dell'Atalanta che deve riprendere la marcia interrotta dopo la brillante ripresa del campionato e la bella vittoria con la Lazio. Le ultime tre partite senza gol all'attivo, un solo punto nelle ultime quattro uscite ma soprattutto i mancati successi in casa con Lecce e Udinese. L'occasione per ripartire è la gara interna con l'Empoli che precede la sosta di campionato dell'ultimo weekend di marzo. Si gioca in un giorno inusuale di venerdì in notturna e l'Atalanta è chiamata a incamerare i tre punti in palio ritrovando la via del gol. A Napoli Zapata ha convinto e dato garanzie, mercoledì è rimasto a riposo ma gli ultimi test sul campo hanno dato risposte positive e Zapata sarà della partita insieme alle altre punte a disposizione. Oilund e Muriel con cui ha diviso il peso dell'attacco allo stadio Maradona e Lukman che conta di essere impiegato contro l'Empoli. Non ci saranno Kupo Miners che sta lavorando a parte dopo la lesione del bicipite femorale della gamba sinistra e Gym City che sta svolgendo terapie per riprendersi dalla lesione al muscolo della coscia sinistra riportata nella gara con il Napoli. Entrambi torneranno a disposizione per la trasferta di Cremona del primo aprile. Gasperini dovrebbe puntare su Zappacosta e Mele sulle fasce Ederson dovrebbe essere riproposto sulla linea mediana insieme a Derun per il ruolo di trequartista uno tra Pasalic e Bogat alle spalle delle due punte. Alla fine, come ripete Gasperini, gioca chi sta meglio. All'andata a Empoli l'Atalanta si è imposta per 2-0 con le reti di Atebor e Lukman. Anche la squadra di Paolo Zanetti non sta avversando un buon momento perché è riduce da tre sconfitte consecutive. Il calcio d'inizio di Atalanta-Empoli alle 20.45 arbitra Dionisi. Per tutte le notizie vi rimando a zonamistamagazine.com